Ciao a tutti ragazzi, io sono Federica e vi parlo dalla Meschita di Cottova, dove sono attualmente in Erasmus. Ciao ragazzi, sono Alessandro e grazie all'esperienza Erasmus ho avuto la possibilità di confrontarmi e conoscere i miei cucchi. Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Luigi Famitelli offre ogni anno numerose borse di studio ai propri studenti per poter partecipare all'esperienza Erasmus. L'esperienza Erasmus è un'esperienza che per me è stata super positiva, soprattutto perché sono riuscita a superare esami importantissimi del mio piano di studi, ma anche perché appunto per gli stessi sono riuscita a confrontarmi con una didattica del tutto differente dalla mia e che mi ha arricchito tantissimo. Nelle mie giornate universitarie posso usufruire dell'issimo Teneo e anche di quelle che sono tutte le autostudio e classi preposte a noi studenti. È veramente fantastico trovarci in un contesto in cui puoi conoscere persone, studenti da tutta parte del mondo e condividere con loro effettivamente quella che è la tua stessa esperienza. Inoltre, iscritti al corso di laurea triennale in Scienze e Servizi Giuridici hanno la possibilità di prorogare il proprio periodo Erasmus fino a 12 mesi, mentre per iscritti alla Magistratà al ciclo unico per un massimo di 24 mesi. Vi invito veramente tutti ad iscrivervi al Dipartimento di Giurisprudenza e provare all'esperienza Erasmus.